L'intervento di chirurgia endodontica è quell'intervento volto a curare un'infezione all'apice della radice chiamata granuloma o cisse e si ricorre a questo tipo di chirurgia qualora non sia possibile risolverla tramite una normale cura canalare. La chirurgia endodontica è una procedura che viene eseguita in ambulatorio in anestesia vulcale quindi risulta essere un dolore per il paziente. Viene prima pianificato l'intervento tramite l'uso di una TAC L'intervento consiste in una piccola incisione in prossimità della radice da trattare una volta esposta quest'ultima verranno rimossi gli ultimi millimetri e solo una parte della radice andrà sigillata tramite un cemento biocompatibile solo dopo aver rimosso accuratamente tutto il tessuto infiammatorio. I disturbi post operatori sono simili a quelli che si verificano dopo un'estrazione dentale tuttavia nel giro di due o tre giorni la sintomatologia scompare completamente. Dopo circa sei mesi sarà possibile verificare una guarigione attraverso scomparsa o riduzione dell'area radiotrasparente e neoformazione ossea. Grazie. Grazie.